Ciao artista! Questo video è un video solo per darti un'informazione super, dopo la sigla! Se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, attiva la campanella per non perdere il video bonus e i video settimanali che escono random qui su Artista Dentro. Cercami sui social Letizia Dispare e sulla piattaforma Viola Artista Dentro, potresti vincere tutti i mesi una lezione gratis con me. Scopri come sulla piattaforma Viola Artista Dentro. Questo video è un video per dirti che da un po' di tempo escono giornalmente qui su YouTube Artista Dentro i video shorts, pillole di recitazione, di dizione. E non solo, giornalmente fai un giro qui su Artista Dentro e vai a vedere il video shorts della giornata. Di solito lo pubblico alle 16.30. Pronto e vai! Lasciami un commento, lasciami un like ai video brevi che pubblico per darti delle informazioni super veloci, magari anche in modo un po' così scansonato e divertente. Ogni tua interazione è importante per far arrivare il video a tante altre persone che potrebbero avere un vantaggio ad ascoltare i consigli che lascio qui su Artista Dentro. Detto questo ti abbraccio forte e ti lascio con il mio motto che spero possa diventare il motto di tutti. Live with passion always! Alla prossima! Ciao!